dai rastel dai su calma 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 perché se tu non di nuovo fu che inizia a scuadarci ci lava dai ben fatta di merda mi dico ho slamato uno che c'è qua almeno un po' meno il finocchio guarda guarda il finocchio guardalo non arriva il chilo oggi poi è anche bello bellino bellino oltre il metro e mezzo albino due metri e mezzo sai che figata un po' di telecronica rotti in culo non c'è niente da dire un ringraziamento a papà fino adesso ho fatto delle cassate poi dopo recupero e se l'attacco te l'avevo detto di arrivare qua davanti alla cosa alla casa con noi che speravamo nella maledizione della debora debora dove sei niente allora riprendere adesso vieni su e bionda una sigla bionda allora stel vai su per la sponda eh sì quanti minuti manca 5.40 oh se mai adesso ti fermo un attimo esatto sì sì vai in pausa giusto grazie a tutti grazie a tutti